Buongiorno a tutti, ho deciso anche di raccontare questo elemento in modalità video, di modo che tutti, anche coloro che non hanno avuto tempo o voglia di leggere tutti i documenti, possano essere a consapevolezza di quello che sta succedendo. Nei giorni scorsi l'azienda OSL di Bologna ha trasmesso alla conferenza territoriale sociale e sanitaria la propria progettualità per ridefinire e ridisegnare la rete dell'emergenza urgenza in accordo a quello che Regione Emilia Romagna ha deliberato. Bene, peccato che la progettualità sotto legida del potenziamento, del miglioramento eccetera eccetera comporti in realtà diverse criticità soprattutto per quanto riguarda la rete della vera emergenza urgenza, in particolare quella del 118, perché sul problema pronto soccorso parlerò separatamente magari in un altro video, pronto soccorso e cauli tratteremo a parte. Sulla rete del 118 questo progetto incondivisibile, irricevibile, non sappiamo neanche più quali termini utilizzare per dire che è assolutamente folle come progettualità a nostro giudizio, si prevede addirittura il taglio completo di tre automediche, nel particolare quella di Budrio, quella di Bazzano e quella di Pian del Voglio e la soppressione parziale di almeno due automediche, pare nell'orario notturno come risulta dai documenti, quindi metà di un'automedica a Bologna e di quella di Loiano. Questo comporterebbe da un punto di vista pratico, nello scenario organizzativo di Bologna, avere una sola automedica di notte che copre un territorio sterminato, praticamente da Bazzano fino a quasi il confine con Argenta e dall'altro lato, quindi quello appenninico, avere solo due mezzi, uno a Marano di Gaggio Montano, uno a La Madissetta per queste due vallate più Loiano di Giorno. Ovviamente questo mette a durissima prova i servizi di emergenza e non consente all'equipo avanzata medico-infermiere di poter lavorare serenamente, di poter raggiungere i pazienti nei tempi che servono. Questo perché? Perché sì, l'azienda probabilmente con questo piano prevede di inviare personale, magari infermieristico, di magari mandare un'ambulanza col personale soccorritore, ma quello che a noi interessa è che nei tempi corretti debba essere garantito l'arrivo di un'equip consona e capace di rispondere alla criticità presunta. Ed è questo il motivo per cui abbiamo scritto a tutti i sindaci, a tutti i consiglieri comunali e a tutti i prefetti coinvolti, in questo caso il prefetto di Bologna. Perché? Perché è assolutamente necessario che tutti gli attori politici che sono inseriti in questa discussione prendano contezza del fatto che questa progettualità non trova per nulla la condivisione del personale medico e oggi abbiamo saputo anche la condivisione del personale infermieristico non c'è assolutamente. Tanto è vero che alcuni sindacati infermieristici hanno appena divulgato un comunicato esprimendo la totale contrarietà a quello che sarebbe un progetto che sotto legida del multiprofessionale, del lavoro di equipe eccetera, in realtà rende di fatto impossibile lavorare con i criteri che gli operatori ritengono essere i minimi criteri di sicurezza e di ridondanza del sistema. Noi non possiamo pensare un domani di mettere un medico in centrale operativa che possa vicariare l'attività clinica sul campo. Quello che non possiamo accettare è che prevalga una visione che purtroppo in questi anni, dobbiamo dirlo, il 118 è diventato un terreno di battaglia, un po' un terreno di conquista tra un lato i medici del pronto soccorso, da un lato i medici dei servizi di anestesia e animazione, ma il 118 non è una succursale di nessuna delle due branche. Il servizio di emergenza territoriale è un reparto ospedaliero o territoriale, ancora meglio, oppure quel reparto di congiunzione tra tutti e due che vive di una sua dignità propria e che come tutte le altre unità ospedaliere prende formazione, skill, abilità, competenze da entrambi i lati, quello territoriale e quello ospedaliero. Una visione che sia troppo centrata su un lato o sull'altro genera problemi ed è quello che noi oggi stiamo vivendo nel concreto. I medici dell'emergenza non possono diventare quei medici che devono correre per un territorio sterminato solo a vedere il paziente ultracritico, magari il paziente giacomatoso o moribondo da intubare. Non è quello il fine del medico 118. Il medico 118 ha delle attività di governo clinico del territorio, delle attività di screening sul territorio che possono essere anche solo per i sospetti di patologia magari cardiaca, magari neurologica, deve poter arrivare con la sua equip ovunque sia necessaria non solo l'intubazione del paziente ma anche la valutazione di un problema neurologico acuto, di un problema cardiologico acuto o dell'apparato che preferite. Valutazione e trattamento e indirizzo corretto verso l'ospedale di destinazione. Una visione che invece va a contrarre troppo di fatto è una visione che vede i pazienti come dei processi automatici su cui telefonicamente si possono teleprescrivere trattamenti standardizzati con tutte le difficoltà ovviamente e le problematiche che derivano dal fatto di dover magari fare dei trattamenti più o meno standard su pazienti che magari hanno storie cliniche, anamnesi e tutta una, come dire, loro singolarità, una loro specificità singola nel caso concreto. Noi questa cosa non la possiamo accettare ed è questo il motivo per il quale abbiamo scritto a tutti, abbiamo chiesto anche ovviamente l'intervento, abbiamo coinvolto gli enti ordinistici, abbiamo coinvolto le prefetture e continueremo questa battaglia di informazione perché non è pensabile che il servizio di emergenza venga depotenziato a favore di una moltitudine di servizi che invece riguardano la piccola urgenza spesso anche differibile perché noi dobbiamo dare delle priorità come nel triage, prima si trattano i casi più gravi, prima si garantisce un intervento nei tempi giusti col personale che serve a gestire quell'intervento e poi andremo a pensare anche alla verruca, a lunga incarnita e a tutte quelle altre problematiche che non sono di minore importanza da un punto di vista del sentito sociale ma che però sono assolutamente di secondaria priorità rispetto alle necessità di un servizio sanitario che deve garantire equità di accesso alle cure. Noi prima dobbiamo garantire le cure di emergenza, dobbiamo garantire che se ci sono più interventi contemporanei, più pazienti critici contemporanei, tutti abbiano nella ragionevole diciamo ordinarietà garanzia di ricevere un soccorso adeguato e poi dovremo pensare anche al resto. Per questo vi chiedo e vi invito a leggere quando avrete un attimo di tempo tutti i documenti che abbiamo prodotto, vi terremo aggiornati tramite le nostre pagine e i canali social e continueremo quest'opera di sensibilizzazione dell'attore politico perché è necessario che in questa fase vengano tutelati i diritti di accesso alle cure di tutti i cittadini perché ricordiamoci, e qui sono proprio nella chiusura di questo breve video, i servizi di emergenza sono servizi soprattutto quelli preospedalieri dove non possiamo scegliere il privato, dove non abbiamo tempo quando il cittadino si è schiantato contro il tir, è uscito di strada oppure ha sofferto un evento acuto, non ha il tempo di cercare il privato, non esiste il privato in questo settore e quindi il pubblico che abbiamo, che già funziona bene, che è stato in questa regione ed è un'eccellenza, deve mantenersi tale soprattutto in questo servizio. Grazie a tutti.